Reading List, la terrificante lista della spesa del covo della ladra. La ladra sceglie la detective, il vampiro, il morto vivente, il vendicatore. La detective è Sara Magnoli con il suo nuovo romanzo Se è così che si muore, thrilling e suspense ad ogni pagina. Il vampiro è Lorenzo Incarbone che cura Draculea per abeditore. Siete sicuri di non aver mai incontrato un vampiro? Il morto vivente è George Romero e Daniel Krauss che la nave di Teseo pubblica con i morti viventi. Pensate davvero di sapere come finisce questa storia? Vi sbagliate di grosso. Il vendicatore è Ali di China di Andrea Varano pubblicato da Nero Press Edizioni. Un vendicatore, una città milano misteriosa e qualcuno che grida vendetta. Ecco la nostra reading list. Siete pronti a fare la spesa su www.ladradilibri.com? Il covo della ladra vi aspetta.